Ciao creatura Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai A-S-M-A Ci vedo io male, ho su un fuoco il fuoco Potrebbe essere entrambe le cose Ok, allora questa sera nuovo haul di Shein E' già Shein, non Shein o Shine Regali, maggior parte sono regali per mia mamma Che sono arrivati proprio oggi al suo compleanno E oggi sono arrivati, io pensavo di andare al compleanno senza regali Avevo già messo le mani avanti E invece sono arrivati giusti per stasera Cioè, che fortuna Eccoli qua Non so perché questa volta me l'hanno consegnata dopo Dei giorni che avevano previsto E vabbè, l'importante è che sia arrivato in tempo Se no vabbè, non sarebbe successo niente di che Allora Mi sono esattamente arrivati in questo momento Quindi li apro adesso insieme a te, creature Vediamo se mi è arrivato tutto E cosa mi è arrivato Perché è passato un bel po' di tempo E non mi ricordo neanche più Cioè, mi ricordo due cose Ma non proprio tutto quello che ho acquistato Come sempre, ogni volta che apro un pacchetto Sto ben attento a non tagliare l'interno Perché può succedere Ti metto i pressi, come al solito A destra o a sinistra A basso o in alto Dove trovo spazio durante l'editing Anche perché adesso non me li ricordo Qualcosa era in offerta Quindi magari troverai le differenze sul sito E Ti lascio anche un codice Nell'info box Che se tu nella parla delle ricerche Cerchi quel codice lì Ti arriva un giochetto tipo Ruota della fortuna Dove puoi provare a vincere Qualche euro Anche fino a 100 euro Io ho vinto un euro e 0,5 Che però insomma Accumula un euro qua Accumula un euro di là Due punti Si riesce a comprare qualcosina gratis Perché quindi Perché buttarli via Se si può anche avere un euro Vinto Perché no, giusto? Ok, dovrebbe esserci tutto Allora Andiamo a vedere Un ordine sparso Intanto ti mostro I regali che ho preso per mia mamma Allora Premetto che a lei In questo periodo Stra ama Il colore lilla Quindi ho cercato di prendere Tutte cose a tema Lilla o viola E ci sono riuscita abbastanza Le ho preso Le ho preso Questa collanina Con delle piccole perle Perlate Lilla Il colore non è proprio come quello In foto Però è E poi Qua non so neanche come risulta Il colore Mi sembra abbastanza simile Sembrava più lilla Però in realtà È un colore Talmente carino Che Non saprei descrivere Ti sembrava Un lilla Olografico Non so Bello Bello Molto fine Bello Molto estetico Un'altra collana Con un giondolo Troppo top Questa Praticamente Il giondolo È Una bottiglia Che versa il vino Dentro un bicchiere E il vino È vino rosso Ma crea questa forma Tipo a cuore Siccome lei è Sommelier Le piace tanto il vino Allora ho pensato Che fosse Proprio Azzeccato Come Come collano Come giondolo È veramente carina È veramente carina Per il prezzo Le ho preso Questa cavigliera Composta da Due cavigliere Sempre sui toni Del viola Lilla E Calcola che A lei Piace sempre Indossare questi Pantaloni Con le caviglie Di fuori Che a me Dono fastidio Cioè Ho pantaloni corti O pantaloni lunghi Non caviglie di fuori A me non piace Però a lei piace Come moda E quindi Sarebbe un tocco Chic Se si vedesse Una cavigliera Non lo so Però comunque Se la può sempre Mettere al mare Un'estate Con una gonna E un paio Di sandali Non lo so Comunque Una è con Delle berline Viola Un cuoricino L'altra è con Una farfallina Lilla Sui toni Del lilla Del viola Viola chiaro Viola scuro Ecco Molto fine Secondo me Si abbina La collana Quella con le berline Viola Poi Sempre tema Viola Ho preso Una palette La mia prima palette Di chiclame Non è per me Però lei Ho notato Che non ha Palette Con ombretti Seri Tra virgolette Perché ha degli ombretti Brutti Tipo Giocattolo Sembrano talmente vecchi Che usa ancora Quegli scolini Orribili Non ha pennelli Ma niente Quindi ho detto Le regalerò Degli ombretti Belli E questa palette L'ho vista Già da un sacco di tempo Ho detto Quella lì Me la piglio io Per mia mamma Impacchettata Molto bene Quindi Mi sembra Ben protetta Speriamo Che sia Tutta intera C'è del polistirol Eccola qua Mi dispiace Che devo aprirla E togliere il cigilio Ma volevo Suocciarla Prima di taglierla Proprio per Per essere sicuro Che sia Come Come Shein Promette Ok Allora ho preso Questa SheGlam Rhapsody Palette Palette Rhapsody Tradotto così Proprio Ok Quindi è Piccolina Tutta in teoria Sui toni Del lilla Vediamo un po' Eh si È proprio come volevo Si vede bene Ok Allora c'è Unicorn Che è tipo Un Lilla Super Glitterato Petal Che è tipo Un rosa cipria Però Glitterato Un hue Che è una specie Di marroncino Tenue Un Dangerine Un lavander Che è un misto Tra Questo E questo Bello C'è Lily Ma Mandala Pink me Che è un lilla È un escape Che è molto simile A questo Un po' Più Chiaro Non so se si vede Vorrei sfuggiarlo Ma proprio adesso Deve passare un aereo Mi dispiace Rovinaglio Insomma è nuovo Comunque è bellissimo Ha un effetto Bellissimo Era proprio come Farò magari una foto Col telefono Ha un effetto Ha l'effetto Che volevo io E quindi Soldi spesi bene Questa è molto bella Sti piace lì La creatura Poi ho pensato Cosa fai Le regali La palette E lei non ha neanche Un pennello Come se la mette Ancora col dito Ancora con quei scovolini Orribili Questo set di pennelli E ho cercato Che fossero solo Io l'ho chiesto Così Facendo finta Di nulla Ma scusa Tu ti metti Il fondo La tinta Il blush Illuminante No no Io mi metto solo L'ombretto E le ciglia finte Che le ho regalato io a Natale Quelle Come si dice Quelle magnetiche E quindi ho detto Vabbè Sono stata lì a cercare Che siano viole Che siano solo Piccoli per gli occhi Per l'ombretto E li ho trovati Eccoli qua Ne ha un'infinità Che puoi scegliere Quale si trova meglio Per fare la sfumatura Per far mettere i glitter Eccetera eccetera C'è anche uno scovolino Per le sopracciglia E insomma Può divertirsi Perché sono tanti Non deve star lì Ogni volta A pulirli Ma anche allo stesso tempo Ho detto Cosa fai? Le regali I pennelli E poi dopo Dici come faccio A pulirli Ho preso anche Il tappetino Per pulirli Ovviamente Viola Quindi questo è stato Il regalo di compleanno Che l'ho comprato Tante cosine Alcune da un euro Alcune anche da meno E alla fine è venuto Un bel regalo Utile Perché sono tutte cose Abbastanza Fru fru Però anche utili Perché vabbè Trucco però Insomma Cose che lei non ha E non concepisco Il fatto che Nel 2023 Non abbia Una palette E non abbia Di pennelli Con cui truccarsi Quindi Ormai che sono entrata In questo magico mondo Per forza Ho dovuto acquistarli Poi ovviamente Per la mia piccolina No Non Sam Per la mia piccolina La mia macchina Ho preso Questo Dovrebbe anche Non essere troppo grande Perché avevo paura Se fosse troppo grande Il parasole Per il cruscotto Sì Perché adesso Ogni volta Che Ce l'ho sempre La mia nera Non ho un parcheggio All'ombra O ovunque vado E quindi Entro in macchina E sto Morendo Non posso accendere La ricondizionata Perché sono strattona Perché è troppo piccola E vecchia Fa fatica E anche se Ce l'ho la ricondizionata E quindi Devo aprire Solo un finestrino Perché l'altro Mio papà Me l'ha rotto E dopo mi ha detto Ma era già così Ma non era vero Funzionava Prima che ci mettesse Lui la mano Dopo che gli ho detto Non fare così Lui l'ha fatto apposta L'ha rotto E poi dopo Non avevo i soldi Per aggiustarle E quindi L'ho tenuto così E quindi Devo andare via Con un finestrino Solo aperto E morire di caldo Allora ho detto Mi prendo Qualcosa Per cercare Di non far andare Il volante A 3500 gradi E anche Di cercare Non so Quanto Possa Proteggere Dal sole Però io ci provo Visto il prezzo Ho detto Vabbè Lo prendo Sta perdendo Delle ventose Ogni tanto Cade qualcosa E è una ventosa Finché lo sto aprendo Ah ecco Ho visto Ho visto Da il buco Che per mettere La ventosa Non so che materiale Siamo È molto soffice Beh Ero 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 Preoccupata Per la dimensione Pensavo Mi arrivasse Gigante Invece Mi sa Che per una Smart Eh Altrimenti Ci faccio Sei giri Come Come larghezza Va bene Come lunghezza Direi che Probabilmente Copro anche I finestrini Però Chi se ne C'è Per me Mi sono presa due cose Una cosa per mio papà Perché mi rompeva Perché cerca sempre Di rubare le mie cose Mi ha già portato via Una borsa E ha cercato di Già gli avevo prestato Un morsup E poi me l'ha tutto rovinato Allora Non glielo presto più Non ho più Intentazioni Di prestargli cose Perché poi O non mi tornano più indietro O mi tornano indietro Rotte O rovinate Quindi Gli ho preso un morsupio A parte che è bello E vorrei anche tenermelo Però a caso mai Per questa cifra qua Me ne prendo uno Per me E' bello E' bello perché è nero su nero E' semplice Ha tante taschine Quattro taschine Quattro taschine Ed è Non troppo grande Invece quello mio È più grande Forse Forse perché c'è più roba Sembra più piccolo Forse perché è vuoto Comunque è bello Mi sa che me ne prendo uno Anche per me Se ce ne sono ancora A questo prezzo Perché è fatto proprio bene Un bel tessuto Anche sembra Impermeabile Vabbè me lo tengo io No scherzo Poi Ok adesso per me Finalmente Due cose per me Tre cose dai Mi sono presa questa collana Che è troppo estetic Cioè io ho pensato Questa collana Con le maglie metal Quanto estetic è Perché ha un contrasto Troppo bello Quindi mi sono presa Una collana Con le perline bianche Sperando che la parte Di non perla Quella Era l'unica mia paura Quella con la catenella Regolabile Io spero che Non abbia nickel Perché sono allergico Se no altrimenti Non posso mettermela L'hanno mandata un po' Come cavolo volevano Perché c'era quella Un po' più larga E quella un po' più stretta Io avevo scelto quella Un po' più stretta Ma questa mi sembra Un po' più larga Di quella che ho scelto Però boh Non lo so Perché lì le dimensioni Non si capiscono molto Non mi sembra Molto girocollo Come la volevo Però allo stesso tempo Forse è meglio Non girocollo Perché ho già Quella con le stelline Volevo appunto Abbinarla Quella con le stelline A quella con Che sia una via di mezzo Tra entrambe Quindi restare centrale E mi sembra A parte che è molto estiva Ma se non fa Se posso tenerla Anche finché mi lavo Come questa Queste qui La tengo sempre Anche d'inverno Perché mi piace il contrasto Appunto Un po' Creepy cute Ecco un po' così Visto che per avere La spedizione gratis Mi serviva Di comprare una cosa in più E poi avrei avuto Spedizione gratis Questo costava E mi dava Quell'euro in più Giusto L'ho preso Nero su nero L'ho preso anche per me Il tappetino Per pulire i pennelli Che mi mancava E Ero indecisa Se prendermelo Verde o nero Ma dopo di tutto Me lo prendo nero Me lo prendo nero 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 E quindi così Potrò pulire anche I nuovi pennelli Che mi sono arrivati Non so se è uno spoiler O comunque vedrai il video Ecco questi sono stati Gli acquisti Perché alla fine Ho già messo Delle cose nel carrello Che ho visto In offerta Che mi servono E Ho ancora tipo 7 euro Di punti Una cosa del genere Però ho visto che Se tu le scali Dopo Dovevi aggiungere cose Per Per avere La spedizione gratis Invece adesso Grazie a quel giochetto La gira la ruota Ho vinto un coupon Che con 9 euro Di spesa Hai la spedizione gratis Quindi A posto Prossimo acquisto Cosa devo prendere Ho già visto Delle cose che mi servono E che prenderò E penso che mi prenderò Anche per me Quel marsupio lì Perché è fatto troppo bene E ho guardato Dappertutto In tutti i negozi Anche dai cinesi Sotto i 6 5 5-6 euro Anche di più Non trovi un marsupio Non trovi un marsupio Soprattutto tutto nero Semplice Trovi sempre con dei disegni Del cavolo E da adulto Non lo trovi A meno di 6 Massimo 5 euro Ma 5 euro Non le ho viste Da nessuna parte 5 euro Acquistato Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao creatura Buon relax